Il deputato Andrea del Mastro delle Vedove ha facoltà di dichiarare se si ritenga soddisfatto o meno. Grazie Presidente, solo parzialmente soddisfatto con Luciferina Intelligenza, il sottosegretario Todd ha sorvolato sul passato. Però il passato non è passato, perché per un anno noi siamo andati dietro a Venture, gruppo sino-israeliano, che pur non avendo prodotto un solo bullone ha evaporato milioni e milioni di euro in consulenze, mentre chi doveva vigilare anche a livello ministeriale, non lei ma chi l'ha preceduta, ha dormito il sonno degli ingiusti. Ancora ricordo i roboanti annunci di quel mix, di quel convegno di intelligente fatto prima da Calenda e dopo da Di Maio che ci raccontavano che avremmo prodotto, me lo sono segnato, il robot per pulire i pannelli su fotovoltaggi, una supercazzola di dimensioni mondiali, comica e cosmica, con la quale ci siamo fatti prendere, portare con l'anello al naso per un anno intero. Da luglio 2020, mentre altri pensano i termini che uso io, 400 dipendenti attendono la cassa integrazione e non l'hanno. Il procuratore aggiunto di Torino, mentre altri pensano i termini che uso io in quest'aula, ha ipotizzato la bancarotta fraudolenta per distrazione di somme inquietanti anche finite all'estero, mentre qualcuno doveva vigilare una pesante eredità, quella che ha lei, quella del duo straordinario, di quel mix di intelligenze Calenda e Di Maio. Ma andiamo al futuro, il piano di industrializzazione che c'è oggi è un piano vero, ve lo riconosciamo noi, di Fratelli Italia. 50% Invitalia, 20% Piemonte Veneto, 30% privati per realizzare il campione europeo nella produzione dei compressori per frigoriferi. Una nazionalizzazione a tempo che per la prima volta dà la risposta di un governo, ma in scusi che si arrenda il declino, che vive di reddito di cittadinanza, che per la prima volta di fronte a una crisi industriale non sa solo balbettare timidi ammortizzatori sociali con cui accompagnare la decozione all'azienda, ma ha un modello industriale. 170 milioni di compressori vengono prodotti nel mondo, 95 milioni dai cinesi, 60 dagli asiatici in genere al di fuori dei cinesi. L'Europa ne ha bisogno di 34 milioni perché produce 34 milioni di frigo, ma produce solo 12 milioni di compressori. La crisi pandemica ci ha spiegato che noi dobbiamo avere la filiera finita. L'Italia può avere in quello il campione europeo della produzione di frigoriferi. Due ma però, due ma. Vogliamo aiutare e vogliamo collaborare. Primo ma, articolo 43 di L Rilancio, è quello che serve per iniettare denaro e difendere quella produzione. Subito i decreti attuativi, sottosegretario, perché i decreti attuativi ancora non ci sono e senza quelli rimangono promesse e non atterrano realtà. E ancora, me lo permetta di dirlo da destra però sociale. Utilizzi la legge Marcora, immagini di coinvolgere gli operai nella partecipazione agli utili alla gestione di questa azienda. Archivi la lotta di classe, abbia il coraggio di delineare un modello per il futuro di collaborazione. La lotta non è fra le classi, ma è una lotta di produzione nazionale contro il resto del mondo. Non vinciamo contro la Cina se riduciamo i salari, ma se mettiamo in ogni ora lavorata la passione e l'anima italiana. E lo si può fare con la partecipazione agli utili e alla gestione dell'azienda. Non vinciamo affidandoci ai predoni internazionali come quelli di Venture, ma a chi vive in fabbrica, della fabbrica e per la fabbrica. Non vinciamo con capitali finanziari anonimi che uccidono i tempi degli investimenti perché devono massimilizzare il profitto nel minor tempo possibile. Ma radicando e ancorando l'azienda nella fabbrica, nell'anima degli operai. Superando la lotta di classe in una logica di collaborazione di classe nella lotta per la produzione nazionale. Innovazione, qualità, flessibilità. Ormai è un mantra. A volte anche stanco, trito e ritrito. Ma sono ricette che si possono fare non eterno riducendo i salari, ma coinvolgendo nella ragione dell'impresa e della produzione gli operai. Rubando l'anima agli operai e portandoli al centro dell'azienda. Se questo è lo scenario, se questa è la grande scommessa per reindustrializzare l'Italia e non per accompagnare l'adecazione dell'azienda con ammortizzatori sociali, noi saremo dalla vostra parte. Vi incalzeremo su un braco, vi incalzeremo e termino sull'erogazione della cassa integrazione, vi incalzeremo sui decreti adduativi del 43DL rilancio, se no non potete fare nulla. Ma vi offriamo oggi il modello della partecipazione, quale unico modello, e ce l'ha detto la Germania con la Midbestimmung tedesca, che coniuga qualità, innovazione e flessibilità con difesa dell'occupazione e produttività nazionale. Ve lo offriamo generosamente, perché è da sempre il modello dell'economia sociale di mercato della destra italiana, ma soprattutto perché la Germania ci ha spiegato che quello è il modo per vincere le sfide globali, facendo la guerra anche ai cinesi, non abbassando i salari, ma coinvolgendo gli operai in una battaglia per la produzione nazionale.